Un giorno dalla redazione Rai dell'Emilia Romagna, la ripresa economica che molti aspettavano per la fine del 2012 ancora non si vede. I dati non promettono nulla di buono, soprattutto quelli delle piccole aziende la cui produzione cala vistosamente. Cala il PIL della regione meno 5,5%. La difficoltà di accedere al credito mette in ginocchio molte aziende. E ancora una volta le imprese chiedono alla politica di fare presto. Il servizio è di Nelson Bova. Le aspettative degli Emiliano Romagnoli lo scorso anno erano che per l'ultimo trimestre del 2012 sarebbe dovuta ricominciare la ripresa economica, dice il presidente di Compindustria regionale Maurizio Marchesini durante la presentazione della periodica analisi congiunturale. Invece abbiamo registrato proprio nello stesso periodo i dati peggiori degli ultimi 15 anni. Anno nero delle costruzioni dell'industria del legno, tengono alimentari e crescono, unico dato positivo ma con numeri inferiori al previsto e agli altri anni, le esportazioni. Performance peggiori delle aziende piccole, segno che per competere all'estero occorre essere strutturati oppure rete. Il misero più 0,9% non risponde certo alla domanda mondiale in crescita del 13%. Esportiamo troppo in Europa, 64% in crisi come noi e troppo poco in Asia, Russia, Sud America e Turchia dove invece si registrano i trend di crescita maggiori. Cala il PIB della regione, meno 5,5% in linea con l'Italia ma molto più di Toscana, Val d'Aosta e Veneto. Le banche danno crediti col contagocce e alzano i tassi, lo sblocco dei 40 miliardi che impediscono i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni e che hanno causato in Italia il fallimento di 15.000 imprese sono ancora più una promessa che una realtà. Per ora è solo un annuncio, per ora sbloccati, sono sbloccati integramente solo un 5%. Ci sembra ancora tutto estremamente burocratizzato. Ma il problema per l'Italia oggi è anche un altro. Nel mondo c'è la ripresa economica, c'è una ripresa economica anche molto importante. Molti paesi europei la stanno agganzando, noi non la stiamo agganzando a livello nazionale perché di fatto ci manca un governo, ci manca una direzione precisa.